Risultato penalizzante, ci sono tante cose da dire, forse anche sei gol subiti in pochi giorni, però forse dal punto di vista della prestazione è stata anche una delle migliori dell'ultimo periodo, per intensità, per occupazione degli spazi. Diventa difficile commentare una partita del genere, nel senso che cosa vuoi dire? Perdi 3 a 2, subisci un'altra volta 3 gol, che non è proprio da pescare, insomma, subire 3 gol a partita, nonostante sotto il profilo del gioco si può dire che noi giocavamo e gli altri segnavano, però la realtà è che abbiamo perso alcuni palloni che sono stati poi sanguinari e abbiamo subito delle situazioni pericolose dove hanno fatto gol e poi gol seguente a calcio d'angolo. Prestazione sotto certi aspetti, ripeto, diventa difficile dire che è stata una buona prestazione, ma convengo sotto il profilo del gioco, abbiamo cercato di girare palla, credo che hai detto bene, forse nelle ultime giornate questa è stata in termini qualitativi forse la migliore nella costruzione, poi nel primo tempo siamo un po' mancati là davanti, mentre nel secondo tempo siamo stati molto più efficaci, soprattutto con gli esterni che ci hanno dato una spinta in più, chi è entrato è entrato bene e ci ha permesso di rientrare in partita e anche lì non dovevamo subire poi in quel modo il terzo gol, lasciando chiaramente qualche spazio si può rischiare qualche transizione, ma in quel frangente dove eravamo tutti bassi prendere un gol del genere è veramente molto deleterio. Ecco, ho fatto un'analisi completa, Colombo mi dà lo spunto per una domanda sull'assetto tattico del secondo tempo, perché quando il Pescara ha provato a riprendere la partita si sono viste delle belle cose con i due centrocampisti centrali, De Sogus e delle Monache esterni offensivi e Cuponi dietro la punta centrale. È solo una situazione di emergenza per riprendere il risultato oppure un assetto tattico su cui si potrebbe lavorare? No, si può lavorare, è chiaro che probabilmente la partita anche l'avversario che sul 2-0, forte del 2-0 ha cercato di occupare un po' la zona centrale e ripartire, per cui sicuramente io credo che sia una soluzione da cavalcare, da lavorare e cercare poi di riproporre, magari in alcune occasioni anche dall'inizio. È un'altra soluzione proprio perché abbiamo dei talenti sugli esterni e oggi ne abbiamo avuto una dimostrazione, per cui sicuramente oggi è stato un sistema che ci ha dato un qualcosa in più e dobbiamo pensare a riproporlo in altre occasioni. Io le chiedo l'ultima cosa prima di una domanda da studio. Abbiamo detto dei sei gol subiti nelle ultime due partite, se allarghiamo un po', diciamo otto, compresi quelli della Turris nel posticipo. Il Pescara se non erro ne aveva subiti sette in tutto il campionato. È solo un caso, solo episodi che sono tutti insieme girati contro oppure è un campanello d'allarme per la linea difensiva? No, sicuramente non è mai un caso. I numeri non mentono. Ci sono magari alcune volte in cui subisci la prima occasione e altre volte in cui sei un po' più fortunato e magari finisce con un clean sheet quando poi magari gli avversari hanno creato un po' di più. Però è chiaramente un segnale da non sottovalutare, ripeto, proprio perché noi eravamo abituati a concedere relativamente poco e per cui anche lì sotto l'aspetto, credo, psicologico-mentale diventa importante non perdere le certezze anche se questo, diciamo, è il primo momento di difficoltà della stagione e su questo noi dobbiamo farci forza e lavorare dal punto di vista mentale per uscire nel prima possibile. Una domanda, una da studio. Momento critico della stagione, la domanda di Fabio Ferrarezzi. No, mister, prevesso che la partita, come ha detto bene lei, il risultato secondo me è bugiardo. Il Pescara meritava qualcosina in più, però quello che dicevamo prima con Massimo, il Pescara fino a due o tre settimane fa dava sempre dimostrazione di voler raggiungere il risultato o di recuperarlo, nel qual caso fosse stato magari in difficoltà. Oggi secondo me qualcosina si è perso e io continuo a dire che un po' di autostima la partita con il Catanzaro può averla tolta. Io credo che non so se è questo, nel senso che io ho visto una squadra che ha voluto comunque riprendere il risultato anche sotto di 2-0, però siamo mancati sotto il profilo, diciamo così, della determinazione negli episodi. Prima eravamo sempre concentrati, adesso magari commettiamo qualche errore in scelte tecniche che ti portano a subire delle situazioni come il primo gol, come il secondo, nato da una ripartenza a nostro favore, una giocata sbagliata, abbiamo subito la ripartenza avversaria con il calcio d'angolo da cui è arrivato il gol. Ma anche sulle palle inattive, probabilmente poi diventa un aspetto anche psicologico, visto i due gol presi col Catanzaro, di solito noi è vero che li abbiamo presi molti di quelli che avevamo preso prima su palle inattive, ma per bravura dell'avversario. Qui, in queste due partite, sicuramente potevamo fare nettamente meglio su quegli aspetti.